Buonasera, ben trovati. L'11 giugno prossimo si terranno le elezioni amministrative e il comune di Valdidentro sarà chiamato al rinnovo. Con noi questa sera Ezio Trabocchi, sindaco uscente, ci racconti il suo mandato 2012-2017. Sì, intanto un saluto a tutti. Raccontare un mandato è sempre difficile perché sono cinque anni che possono sembrare pochi ma per un'attività amministrativa sono tanti. Sono stati soprattutto, credo, impegnativi perché oggi amministrare è diventato molto più difficile rispetto ad anni fa per una serie di ragioni, soprattutto credo procedurali, formali. Una legislazione molto caotica, sovrabbondante, confusa che ha in questi anni direi intralciato il lavoro degli amministratori pubblici a tutti i livelli. Però sono stati anche anni ricchi di soddisfazione per i risultati conseguiti e soprattutto credo perché la Val di Dentro si è ritagliata uno spazio da protagonista o coprotagonista di scelte importanti non solo per il suo territorio ma per l'intera valle. Alcuni progetti sono già avviati, altri sono in corso di definizione. È ovvio quindi che la prospettiva che si apre sarà molto interessante nei prossimi anni perché io li considero anni ancora più difficili, più impegnativi ma soprattutto decisivi per le sorti non solo della Val di Dentro ma di tutto il territorio comprensoriale. Un bilancio il suo che coincide con una scadenza importante e che si riconferma virtuoso? Sì, allora il comune di Val di Dentro è stato formalmente giudicato un comune virtuoso, formalmente perché c'è una graduatoria regionale sui 1500 comuni della Lombardia. Val di Dentro in un paio di occasioni si è trovato ai primissimi posti, al terzo posto, ma sono criteri diciamo più formali legati alla tenuta del bilancio, alla flessibilità del bilancio. Certamente alcuni Val di Dentro sotto il profilo delle risorse ha delle opportunità importanti, però sono anche state fortemente limitate dal patto di stabilità che ha segnato la vita dei comuni in questi anni, il patto di stabilità è una sorta di declinazione un po' scomposta del patto di stabilità esterno, quello europeo, che ha limitato l'azione dei comuni perché i comuni che hanno delle risorse in questi anni hanno visto non poterle spendere fino in fondo. Comune Val di Dentro non ha mai avuto in questi anni un avanzo, come è successo, di 3 milioni di euro. Le risorse vanno spese, ci sono problemi sul territorio, quindi non sono mai troppe le risorse. Quindi trovarsi un anno addirittura con un avanzo di amministrazione di 3 milioni di euro significa che c'è un qualcosa che non funziona nel meccanismo. Ma nonostante questo credo che abbiamo fatto una serie di cose importanti cercando veramente di muoverci nel labirinto formale delle procedure, del bilancio e quindi con un po' più di fatica rispetto al passato siamo però come dire giunti al traguardo su diversi obiettivi. Un comune di quanti abitanti? Val di Dentro è articolato in 4 frazioni per 4.100 abitanti e oltre al dato anagrafico l'importanza di Val di Dentro è legata a un territorio. Noi abbiamo dei territori molto grandi qui in Altavale, molto vasti. Val di Dentro è il più vasto della regione Lombardia, 244 km2 di territorio per dare un riferimento Milano a 186 km2. Val di Dentro è la 244, la differenza che in Val di Dentro siamo un po' più larghi, siamo 17 abitanti per km2, Milano sono quasi 1.700. Siete comodi. Mi sa dare anche un indice relativo all'età media dei suoi abitanti. Sì, l'età media di Val di Dentro è intorno ai 40 anni. È un'età importante perché ci sono effettivamente comuni con un'età media più avanzata. Quindi relativamente giovane. Relativamente giovane, credo nel pieno del dinamismo anche di una vallata, di una comunità che vede oltre al dato anagrafico e la data media ancora molto attiva, vede però un territorio che ha delle presenze in termini di associazione, di gruppo volontariato ancora più ricca. Insomma, perché va di Dentro ha quasi 500 volontari attivi sul territorio. Quanto hai investito sulla scuola, sull'istruzione e anche sul settore della cultura? Allora, io credo di essere stato un maldestro assessore alla cultura e all'istruzione perché facendo il sindaco non mi era sempre facile seguire l'assessorato. Però rivendico come dato oggettivo e incontrovertibile il fatto che oggi noi abbiamo un piano predito allo studio che impegna le risorse più ingenti in base al numero di studenti dell'intera provincia di Sondrio. Cioè noi spendiamo quasi 630 mila euro, stanziamo queste risorse per una serie di servizi sulla scuola e siamo passati dal 2012 a oggi da 500 a 650. Perché? Perché abbiamo introdotto il bonus scolastico. Sono soldi che sono andati alle famiglie degli studenti in questi anni, all'incirca, dicevo, 150 mila euro per 5 anni, quindi 750 mila euro a sostegno delle famiglie in base ai criteri ISE per sostenere gli studenti nel loro percorso scolastico. In particolare per gli studenti che hanno costi importanti come collegi, pensionati. Io ho un figlio ad esempio dai Salesiani a Sondrio, quindi so cosa costa la retta. Non ho beneficiato del bonus per un discorso di reddito, però so quanto serva questo aiuto perché molte famiglie o alcune famiglie sono costrette a, come dire, rinunciare a qualche opportunità per i loro figli in termini di anche scelta della scuola proprio per qualche difficoltà economica. Quindi sono contento perché abbiamo trovato la risposta a un problema, ad un'aspettativa e teniamo presente che poi va di dentro, ha un tasso di scolarizzazione molto alto, quindi occorreva secondare questo aspetto perché abbiamo tanti laureati, tanti diplomati, ma anche tanti ragazzi che vanno alle scuole professionali. Io ho due figli che vanno alle scuole professionali e ho scoperto, come dire, le straordinarie opportunità di una scuola che viene giudicata un pochino di serie B, ma in realtà offre ancora delle grosse opportunità per le nostre imprese, per le nostre aziende e per i nostri giovani. Quindi scuola per noi è stata un'assoluta priorità. Per quanto riguarda invece la cultura in senso più esteso? Sì, io credo che la Val di Dentro in questi anni si sia caratterizzata, anche a fronte di qualche disponibilità di risorse in più rispetto ad altri comuni, per aver organizzato tanti eventi turistici, quindi anche culturali, culturali per i nostri residenti e per i nostri turisti. Poi certo la scelta, il criterio per il quale un'amministrazione sceglie quel percorso, quell'evento, un altro, può essere, come dire, soggetto a valutazione, anche critica. Però certamente noi crediamo molto nella promozione culturale degli eventi, di promozione di eventi culturali, perché una comunità deve crescere, non solo con gli asfalti a posto, che questo è importante, ma soprattutto una crescita culturale, offrendo a tutte le fasce d'età. Noi abbiamo organizzato anche un ciclo di conferenze per gli anziani, che l'hanno apprezzata molto, insomma. Cioè, coinvolgendo tutti in un percorso di crescita culturale, è stato, credo, un altro obiettivo che abbiamo raggiunto in questi anni. Ha parlato di territorio vasto. Da questo punto di vista, da un punto di vista ambientale, che cosa ha fatto per il suo comune? Come è riuscito ad operare, appunto? Sì, una domanda molto opportuna, perché è stato centrale l'obiettivo della manutenzione e conservazione del territorio. Noi quest'anno, in questo mandato, anzi, abbiamo pensato a meno opere pubbliche, intese come grossi lavori, tanto c'è la limitazione del patto di stabilità, di cui ho parlato in precedenza. Ma poi perché abbiamo appuntato ad una riqualificazione del nostro territorio e centrale è stato lo sfalcio. L'abbiamo introdotto nel 2012, all'inizio del mandato, scelta all'inizio guardata con un certo, come dire, fastidio, anche dai nostri cittadini, perché erano anni che non erano più abituati alla pulizia, alla conservazione del territorio. Siamo arrivati ben presto a percentuali di adesioni del 99%. Cioè la gente ha capito, ha colto, che occorreva ritornare all'origine, riprendere in mano il nostro territorio, riqualificare con un po' di fatica. Ogni anno tutto è migliorato anche in termini di impegno, perché sono stati duri i primi anni, ma poi il territorio, se la cominci a coltivare, risponde facilmente alle tue fatiche e oggi possiamo, come dire, presentarci anche turisticamente con un territorio più ordinato, più pulito, e questo è giocato molto in termini, credo anche, come dicevo, turistici, oltre a vivere meglio su un territorio pulito. E poi abbiamo avuto una serie di lavori, di investimenti nostri, perché abbiamo investito, se pensate, quasi mezzo milione di euro all'anno per interventi fatti dalle nostre imprese locali, i cotti midili, in particolare di manutenzione del territorio. Quindi in opere pubbliche. In più, una collaborazione per noi molto preziosa, il Consorzio Forestale, ogni anno 200.000 euro di risorse date al Consorzio Forestale su interventi programmati, voluti dal Comune, in termini proprio di, anche qui, piccole attenzioni, ma molto distribuite, molto diffuse, su un territorio ampio, con tante valli, oggi che noi siamo impegnati ad un riepilogo di questi cinque anni, mi sto accorgendo che stiamo parlando di centinaia, ripeto, centinaia di interventi diffusi di manutenzione sul territorio. Quindi il bilancio lo ha già approvato e con quali novità? Sì, il bilancio è già stato approvato, noi abbiamo un bilancio di circa 10-11 milioni di euro e lo abbiamo provato mantenendo anche quest'anno, come per tutti gli anni del mandato, la fiscalità al minimo delle aliquote e delle tariffe. Non è facile, credetemi, mantenere a questi livelli così bassi l'imposizione fiscale perché da una parte le esigenze aumentano, le esigenze di spesa, le richieste dei cittadini, i servizi da riqualificare, da migliorare e da potenziare. In più lo Stato ci ha messo un po' la mano pesante sulla fiscalità dei comuni perché i comuni sono stati trasformati in questi anni anche in esattori delle tasse per conto dello Stato. Cito un esempio per tutti. Sui capannoni artigianali, industriali, quelli che catastalmente sono individuati con la lettera D, di 1, di 5, di 6, ma senza entrare in questi tecnicismi, sui capannoni industriali l'aliquota, ad esempio la comunità di Val di Dentro, è 10,6. 7,6 va allo Stato. Quindi è marginale ciò che rimane al comune di Val di Dentro in questo caso e peraltro in questa manona dello Stato sui bilanci, sulle casse dei comuni, per noi è giocato in maniera pesante anche il gettito proveniente dalla 2A. la 2A ci dava un gettito importante sotto profilo fiscale per gli impianti, le strutture che sono sul territorio di Val di Dentro, gran parte si ne va allo Stato. Quindi nonostante, dicono, qualche mio amico leghista definirebbe, io non sono un leghista però, so che qualche leghista parlerebbe in questo caso di mano ladrona dello Stato, in maniera un po' più istituzionale, dicono, a mano pesante sui bilanci dei comuni, in particolare sui bilanci dei comuni che hanno i quattrini, come il nostro. Quindi, diciamo, nonostante questa mano pesante, nonostante l'aumento delle richieste, quindi l'impegno di spesa che occorrerebbe mettere sempre più nei bilanci, noi abbiamo mantenuto una fiscalità al minimo, abbiamo ad esempio una IMU invariata da anni, non abbiamo applicato la TASI, la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, tipo la segnalitica stradale, l'illuminazione, non l'abbiamo mai applicata, abbiamo un'addizionale IRPEF, storicamente allo 0,2, altri comuni ce l'hanno addirittura fino allo 0,8, dico questo non per dire che noi siamo più bravi rispetto ad altri comuni, perché altri comuni sono stati costretti a elevare le tasse per un'esigenza di bilancio, per far quadrare i nostri bilanci, i loro bilanci. Per noi è più facile, però è frutto anche di una scelta, perché la tentazione di avere maggiori risorse per investire più nei servizi, in altre cose c'è sempre, è fare il tuo compito di amministratore, e quindi sono soddisfatto di questa scelta, che l'abbiamo mantenuta nel tempo nonostante le fatiche. E poi quest'anno, anzi in questo mandato, noi abbiamo preso anche un impegno di restituire il canone di depurazione pagato da quei cittadini che non erano ancora collegati al collettore. inizialmente sembrava che la tassa fosse dovuta, in realtà poi una sentenza ha detto esattamente il contrario. Quindi noi ci siamo presi questo impegno e abbiamo restituito il canone di depurazione per circa 850 mila euro, 800 noi come comune e 50 mila euro la SECAM quando è subentrata noi nella gestione del sistema idrico. Ecco, mi piace ricordare questo perché per noi poteva essere anche l'occasione, la motivazione, avevamo tutte le ragioni anche per pensare in quel momento dovendo restituire questi quattrini di magari aumentare le tasse in altri ambiti. Non l'abbiamo fatto e quindi credo che non tanto una nota di merito ma per dire che ci crediamo ci crediamo quando assumiamo degli impegni e quindi vi diamo anche di portarli a termine. Per quanto riguarda invece i servizi pubblici? Sì, abbiamo potenziato molto in questi anni sono contento soprattutto per la rete di illuminazione pubblica abbiamo investito tante risorse e continuiamo a investirle. Da ultimo un piano straordinario di 750 mila euro che andrà in attuazione. Poi abbiamo pensato anche ai rifiuti nuova tipologia della raccolta abbiamo pensato alla videosorveglianza cambiata la segnaletica iniziata cambia la segnaletica stradale insomma anche questo fa parte della conservazione e manutenzione del territorio. Aria interne e fondi dei comuni confinanti una partita importante che si sta giocando l'intero territorio. Credo che sia la partita più impegnativa degli anni scorsi, degli ultimi due o tre anni e la partita che ci impegnerà ancora impegnante, non dire, i comuni coinvolti nei prossimi anni nella fase di attuazione perché parliamo di circa 70 milioni di euro mai l'Alta Valle ha beneficiato di così tante risorse perché si sono coniugati due filoni importanti di finanziamenti che sono quelli delle cosiddette aria interne e dei fondi dei comuni cosiddetti confinanti. Non entro nel dettaglio. Io ho seguito questa vicenda per conto dei comuni perché hanno avuto l'ardire di indicarmi come loro coordinatore. sono più impegnato a pensare che sono delle risorse che creeranno certamente delle coordinate di sviluppo per il nostro territorio. Non credo alla considerazione che ogni tanto sento che sono stati redatti tanti progetti e quindi si sono distribuiti i pani e i pesci in maniera un po' disinvolta in tanti frussi di denaro in tanti rivoli che non hanno segnato invece un percorso virtuoso di sviluppo. Non credo a questa teoria perché è molto banale nell'esposizione ma secondo me è frutto anche di un non conoscere, di una ignoranza vera dei processi che invece hanno costituito questo percorso. Io credo che invece si è cercato tutti insieme di disegnare a fronte però di qualche vincolo cioè non è che ti hanno dato i soldi e poi tu li potevi spendere come volevi a fronte di qualche vincolo di spesa si è cercato di disegnare un percorso ripeto virtuoso, importante e non ho dubbi all'esito di questo investimento di 70 milioni di euro qualche scelta di sviluppo sarà concretizzata e avremo un grosso e importante ritorno economico. Ha parlato del mondo del volontariato che nel suo comune è particolarmente attivo. Il comune che cosa ha fatto dal suo punto di vista per sostenere le persone in difficoltà ma anche le famiglie. Ma intanto noi abbiamo un rapporto di grande collaborazione con l'associazione di volontariato storicamente un rapporto di collaborazione li sosteniamo fino in fondo. A me è fatto piacere sapere che qualche gruppo qualche associazione ha riconosciuto in queste settimane l'attenzione che noi abbiamo rivolto a loro. Abbiamo anche logisticamente dato delle sedi importanti penso ad esempio ai gruppi alpini noi abbiamo una protezione civile a Semogo molto attiva dinamica e credo che io ho girato qualche sede in provincia ma uno spazio così grande così ampio anche per il loro magazzino non vi sia. Ma lo facciamo perché consideriamo questo una risorsa quindi anche l'organizzazione di eventi di solidarietà è passata attraverso questa sinergia con l'associazione di volontariato ne cito uno per tutti perché non abbiamo il tempo ma ogni anno insieme per vincere questa associazione di Val di Dentro che promuove raccoglio fondi per la lotta sta al tumore mette insieme tutti i gruppi di volontariato a Val di Dentro in tre giornate si raccolgono quest'anno sono stati raccolti 80.000 euro si definiscono progetti concreti e l'amministrazione fa la sua parte anche con un sostegno economico lo cito perché è un dato reale ma a me interessa soprattutto evidenziare questa grande collaborazione che esiste in Val di Dentro con tanta solidarietà che mettiamo in campo quindi eventi di natura solidale eventi sportivi si è un calendario di eventi articolato e distribuito su questi filoni dicevo culturale perché ci interessa molto ad esempio l'anno scorso anzi l'estate scorsa si è avviato un altro diciamo centro propulsore di cultura di arte di musica costituito dalle feriere di premadio questo luogo carico di storia un pezzo della produzione industriale dell'ottocento le feriere che diventa in Val di Dentro a confine tra Bormio e il nostro territorio un centro veramente pulsante per proposte come dire di nicchia cioè mentre Rasina il nostro centro polifunzionale è aperto alle manifestazioni ad ampio raggio dico io con un pubblico numeroso ampio alle feriere abbiamo individuato come dire la sede di proposte culturali per nicchie quindi anche sotto profilo dell'arte ci siamo avvalsi di competenze di disponibilità anche qui di volontariato però il calendario della prima stagione per me ha segnato già un momento di soddisfazione perché credo che nella stagione estiva 2016 le feriere abbiano ospitato una quarantina di eventi quindi ecco a me piace immaginare anche per il futuro la Val di Dentro che si caratterizzi per questo elemento di proposte culturali ad ampio ventaglio è diventata anche la sede di Bormio Turismo e quindi della regia turistica di Bormio Marketing si Bormio Marketing ci ha chiesto la disponibilità della sede l'abbiamo dato lì alle feriere e colgo l'occasione per dire che anche Bormio Marketing è stato un progetto molto impegnativo con una partenza uno start up assai tribolato ho visto ho visto momenti anche da parte degli operatori e degli amministratori di scoramento perché non si riusciva a trovare il filo della matassa mettersi insieme è sempre difficile tra comuni tra proloco tra operatori però oggi posso dire che quella fatica è servita oggi Bormio Marketing è una realtà che è una sede è operativa finalmente iniziano anche ad arrivare le risorse perché abbiamo progetti finanziati per 800.000 euro all'anno quindi ogni anno Bormio Marketing può spendere 800.000 di finanziamenti all'interno e 200.000 di risorse locali certo la sfida è ancora tutta aperta siamo ancora all'inizio però credo che aver individuato Bormio come brand e non era facile per le valli aver avviato un percorso così impegnativo e oggi vedere alcuni passi più decisi è di buon auspicio per tutto il nostro comprensorio parliamo del Comune Unico la proposta del Comune Unico è una proposta secondo me strategica quel poco di esperienza che ho maturato in questi anni mi ha consentito di riflettere su un percorso che anche per me è stato abbastanza travagliato proprio qua negli studi di Telemontenesi io due anni fa ero ancora molto cauto sul Comune Unico perché mi sembrava allora come dire una scorciatoia che fosse buttata avanti da qualcuno senza il necessario approfondimento e quindi ho voluto rifletterci sopra e la vicenda proprio di Bolmio Marketing tribolata come dicevo e anche tutto il percorso di aria interna quindi i comuni che cercavano unità sui progetti e prima ancora di mettere insieme funzioni amministrative parlavamo della polizia municipale unica parlavamo di altri settori della pubblica amministrazione da unificare in termini proprio di personale risorse spazi abbiamo fatto una fatica spropositata e quindi ho pensato e riflettuto che occorresse accelerare sul Comune Unico ma oltre a come dire razionalizzare le risorse perché sicuramente il Comune Unico significa razionalizzare ottimizzare le risorse qualificare al meglio anche le nostre strutture amministrative il nostro personale i nostri responsabili di servizi oggi sono responsabili di servizi che si occupano delle stesse cose con le stesse complicanze e molto spesso si trovano singolarmente ad affrontare difficoltà anche formali che magari in un ufficio unico potrebbero risolvere più facilmente potremmo selezionare al meglio anche non solo la classe dirigente amministrativa ma anche le responsabilità di servizi i nostri dirigenti i nostri funzionari ma soprattutto ormai le politiche urbanistiche fiscali territoriali turistiche tutte oggi invocano una unità cito tra esempi in 12 secondi il primo io non capisco ad esempio perché dovremmo avere ancora dei piani di governo del territorio che hanno norme tecniche diverse ripeto su un territorio omogeneo come quello dell'Alta Valle e questo crea anche molta confusione e anche qualche elemento di discriminazione perché magari un cittadino di Val Furva trova nel suo comune una regola che invece in Val di Dentro applicate in modo diverso o meglio o peggio ma in maniera diversa questo crea una discriminazione parlavamo prima dell'imposizione fiscale l'ho detto ai miei cittadini lo ripeto pubblicamente in Val di Dentro quando c'è da pagare le tasse e beh è un momento non facile per nessuno quindi capisco che quando occorre togliere i soldi dalle proprie tasche è più facile la critica che è l'apprezzamento però Val di Dentro non deve lamentarsi rispetto agli altri comuni io uso questa espressione molto paesana non deve lamentarsi di gamba sana perché avremmo poco rispetto nei confronti invece di cittadini di altri comuni che si vedono invece alicute più alti si vedono la tasse applicata però mi chiedo è giusto questo allora il mio obiettivo non è quello di pensare di portare i cittadini al comune Val di Dentro ad avere un aumento dalle tasse per equipararli a quelle degli altri cittadini esattamente l'opposto che anche i cittadini degli altri comuni possono avere un'imposizione fiscale più ridotta come dico io quella di Val di Dentro che ha potuto averla in questi anni per una par condicio anche sotto il profilo fiscale il comune è unico con le sue economie con le sue razionalizzazioni di spese potrebbe consentire un abbattimento delle imposte delle tasse quindi una maggiore equità tra i cittadini su un territorio omogeneo è un percorso difficile impegnativo abbiamo come dire le adesioni delle amministrazioni però 3 su 4 vanno al voto fra poche settimane quindi occorrerà capire se questo percorso potrà essere continuato io mi auguro di sì poi so benissimo che i cittadini avranno l'ultima parola con il referendum io non c'è già qualcuno che si è impiccato politicamente a livello nazionale sui referendum io non ne faccio una questione di vita di morte però vorrei far riflettere sto lavorando nel mio comune e sugli altri territori per far riflettere che il comune unico è seriamente un'opportunità da cogliere si sente più politico o amministratore mi è servita molto l'esperienza politica io l'ho fatta anni fa l'ultimo diciamo di sala 2007 a Roma c'era questo partito politico che iniziava il suo percorso io ci ho messo anche il mio contributo a scrivere lo statuto le regole di quel partito io ho scoperto che oggi amministrare è una trincea è iniziato nel 1997 e quindi vorrei che è una trincea tutto più difficile ecco perché l'ho detto anche i giovani che si avvicinano a questo impegno amministrativo è molto apprezzabile che un giovane si occupi della cosa pubblica ha tutto il mio rispetto e la mia ammirazione lei si ricandida io mi ricandido con un gruppo nuovo però ho voluto coniugare intanto quest'anno questa volta è stata più difficile per me la scelta perché mi ricordo il mio amico Massimo Cacciari ex sindaco di Venezia in un incontro a Chiavenna mi diceva io lo conosco da qualche anno mi diceva che per un sindaco è normale il secondo mandato nel primo mandato imposti le cose nel secondo e quindi quando io ho finito il secondo mandato ho preso pausa di cinque anni come peraltro impone la legge nostra quando mi sono candidato e sono stato eletto al terzo mandato ho pensato alle parole di Cacciari che diceva che il terzo mandato è già da paziente psichiatrico cioè quel candidato sindaco quel sindaco che immagina ancora di fare una fatica per la terza volta vuol dire che ha qualche rotellina non ha posto e quindi per il quarto per il quarto non so non so lo stadio dopo la malattia psichiatrica sarà appiancato sarà appiancato da nuove però ho voluto coniugare l'esperienza che è necessaria ecco perché dico ai giovani che quando evidenzio questo dato di esperienza non lo dico per una sorta di facile campagna elettorale lo penso seriamente senza esperienza non si può amministrare oggi un comune o un ente locale però noi in Val di Dentro abbiamo voluto coniugare esperienza la nostra lista si chiamerà l'esperienza si apre a rinnovamento saremo tre o quattro credo tre alla fine della vecchia guardia e dieci nuove presenze il mio compito sarà si sarò ancora eletto poi toglierò credo anticipo eventualmente con cinque anni di preavviso toglierò veramente il disturbo ci mancherebbe altro però voglio ancora metterci nonostante come ho detto l'età un po' l'usura voglio metterci ancora l'impegno la determinazione e il contributo di esperienza però preparando anche una nuova classe dirigente quindi cercando di portare a loro questa esperienza la loro carica di novità di innovazione perché mi viene in mente l'altro giorno una frase di Gote questo drammaturgo tedesco scrittore poeta a metà degli anni del settecento diceva una cosa bellissima che le cose più belle le cose migliori le fai certamente con impegno le fai con intelligenza almeno con un po' di intelligenza quindi sono tutte qualità necessarie ma soprattutto le cose migliori le fai con tanta passione e io vorrei metterci ancora un po' dalla poca passione mavera che ho grazie Ezio Trabucchi grazie a voi grazie anche a voi che ci avete seguito arrivederci grazie a voi grazie a voi